Non c'è nessun collegamento con detti ragazzi scomparsi o controllato Se vuoi puoi darmi il suo numero di cellulare, provo a chiamare Perdi tempo L'ha lasciato a casa I tuoi colleghi pensano che sia andata in Bulgaria a trovare la nonna Visto che l'ha fatta una volta E non può essere? Mia madre è morta Scompare la figlia di un ex prostituto Non frega un cazzo a nessuno Scompaiono un tra i ragazzi ricchi Perdon tutti quanti la testa Perché se qui potevamo parlare al telefono? E' il professor Semeraro Gli ha fatto da badante Irina c'era affezionata E' stato buono con noi E' morto qualche mese fa di polmonite Poverino Da quanto sei qui? Avevo 15 anni quando un cliente mi ha messo incinta Volevano portarmi per Irina Darla degli zingari Così ho conficcato un coltello in pancia Fatevo sentire lo stomaco Ho preso il passaporto e sono venuta qua Perché paghi le donne? Li metti ordine qua dentro Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti